Senti, vorrei fare complimenti a un nostro validissimo collaboratore, Alvise Cagnazzo, che ha sfornato l'ennesima opera dedicata a Pogba, tutti pazzi per Pogba. Questo momento è il calciatore... Il calciatore del momento, bravo Alvise, Alvise che l'ha scritto a due mani o a quattro mani, con Stefano Discretti, è una coppia che funziona. Devo dire che anche gli altri libri sono molto gradevoli, è un libro che ci fa conoscere un fenomeno marziano del mondo del calcio.